Partenza valida, Pier Gallini, Quacu Milani, Igesca Moretti dalla seconda alla sesta e addirittura molto bene, si presenta Quacu per l'Atletica Vicentina e la Milani ritorna nel finale da buon fattocentista vediamo chi la spunta e vola Magna Milani sul traguardo, questo è sicuro e con un vento di meno di un metro di...